Chiara Ferragni, questa è Chiara Ferragni, allora cosa ha fatto Chiara Ferragni? Ha aperto uno showroom, solo per averla aperto è stata attaccata in maniera oscena, è la donna più criticata del web, la più famosa e la più criticata, ha la colpa di mettersi in mostra, di fare vedere la sua bellezza, ha la colpa di stare con un cantante, ha la colpa di avere fatto i soldi, questa è la più grande colpa, quindi l'invidia delle commesse, di tutta l'orda degli avvocati che non guadagnano una lira, delle donne che non si sentono apprezzate dal marito, di quelle che sono costrette a tutto per portare a casa il pane, delle disoccupate, di quelle che chiedono la carità al bordo della strada, l'odio, queste persone si sono ribellate contro la povera Chiara, la povera Chiara ha solamente usufruito del capitalismo, di un mondo osceno, un mondo costruito da voi, addirittura voi dite che questa è la libertà, fondato sulla disuguaglianza sociale, appoggia le radici sulla disuguaglianza, io ho la Jaguar, tu hai l'appunto, io sono vecchio, sto con una ragazza di 20 anni, perché casualmente sei innamorata di me, tu sei giovane e povero e stai con una di 50, ok? Quindi questo è quanto, oppure stai con quella che nella classe del liceo la mettevano a fare le ripetizioni, si fa per dire, hai capito? Bene, questo è quanto, quindi è un fenomeno sociale, lei ha interpretato il mondo capitalista, il mondo capitalista, quello che piace a voi, voi dite che il comunismo non vi piace, l'uguaglianza, l'uguaglianza è un valore meraviglioso, gli uomini sono uguali davanti a Dio e davanti alla legge, quindi lei ha avuto del talento, si è messa in gioco, è una ragazza carina, ma ce ne sono migliaia come lei, milioni come lei, quindi non è quello che ha fatto la differenza. Poi abbiamo Fedez, anche Fedez l'avete attaccato, lo attaccate, attaccate anche Fedez, Fedez è un po' vittima di questo gioco, secondo me Chiara è più furba di lui, è un po' come la Ilari del calcio, è più furba, ha si è servita di Fedez, sicuramente Fedez è stato decisivo, e quindi lei ha aperto uno showroom, ha aperto uno showroom da milioni e fattura 90 milioni di euro all'anno, neanche una multinazionale, neanche una multinazionale di moda fattura 90 milioni di euro all'anno, io capisco le commesse che sfogano la loro depressione sul web.